125 no limits da giovedì 18 giugno solo su job tv quali insetti sono agricoltori le formiche taglia foglie che vivono in america tagliano le foglie e ne portano i pezzi nei loro nidi sotterranei poi le masticano per farne un composto su cui coltivano un particolare tipo di fungo le formiche raccolgono il fungo dal loro orto e se ne nutrono le formiche pastore si comportano come allevatori curano mandrie di varie specie di afidi verdi e neri in modo da raccogliere la dolce melata che questi insetti producono